Durante i corsi mi accade con una certa frequenza che degli allievi mi mostrino un loro girato per chiedermi come mai, nonostante siano certi di aver battuto il fuoco con la massima attenzione, le immagini risultino o fuori fuoco o inspiegabilmente morbide. Di norma la causa del fuori fuoco è una delle tre delle quali parliamo in questo video. Il primo errore è battere il fuoco a una focale diversa da quella di lavoro. Esistono degli obiettivi zoom detti parfocali che sono progettati per mantenere la distanza di fuoco impostata anche quando si varia la lunghezza focale. Nessun obiettivo in realtà è perfettamente parfocale, ma queste lenti, a meno che non si lavori alla massima apertura e alle minime distanze di fuoco, ossia in condizioni di profondità di campo estremamente ridotta, sono in grado di contenere lo spostamento del piano di fuoco entro limiti accettabili. Quando però si lavora con lenti non parfocali, e non parfocali sono quasi tutti gli obiettivi, specialmente quelli fotografici, lo spostamento del piano di fuoco può essere anche molto consistente. Per questo motivo la pratica di zoomare per ingrandire dettagli e fare il fuoco per poi allargare e tornare la focale di lavoro è decisamente sconsigliabile. Il secondo errore è battere il fuoco a un diaframma diverso da quello di lavoro. C'è una aberrazione ottica che si chiama aberrazione sferica residua che fa sì che il piano di fuoco si sposti avanti o indietro quando si chiude il diaframma. In alcuni obiettivi questo problema è così contenuto da risultare trascurabile nella maggior parte dei casi, ma in altri obiettivi è elevato, soprattutto alle massime aperture. Di conseguenza è bene resistere alla tentazione di aprire il diaframma per rendere l'immagine più luminosa e favorire la messa a fuoco se poi si deve girare più chiusi. Il terzo errore è chiudere eccessivamente il diaframma per aumentare la profondità di campo. Quando la luce attraversa un foro molto piccolo si verifica un fenomeno ottico chiamato diffrazione, la cui conseguenza è una perdita, anche notevole, di risolvenza e contrasto. Per questo motivo chiudere il diaframma oltre un certo limite non ha senso, dal momento che le conseguenze della diffrazione superano il vantaggio dell'aumentata profondità di campo. Il limite della diffrazione dipende dall'obiettivo e dal sensore in uso. Così a spanne si può dire che su un sensore super 35 gli effetti della diffrazione iniziano ad essere percepibili verso f5.6, ben visibili tra f8 e f11 ed eccessivi superato f16. I sensori full frame sono circa uno stop più generosi. Ovviamente queste sono indicazioni molto generiche. Prima di affrontare una ripresa per la quale sarà necessaria la massima profondità di campo, come sempre, è bene eseguire dei test.